Piaccia 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 Amare ciao 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 buongiorno ciao 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 tutto un crampo è bella quando hai fatto bella quando hai fatto e noi giù aspettare e avevo capito andiamo andiamo invece andiamo io da solo mi ha fatto andare se non male che non ho risposto troviamola ancora comunque 3 4 e mezzo 5 e mezzo 5 litri e mezzo più 2 c'è un problema c'è un problema per me c'è troppo pieno che li butta fuori può essere occhio arriva l'autista numero uno va bene va bene concludiamo qui la giornata la cinta ma lì si deve fermare si ma non hai visto il coso